Una grande palestra a cielo aperto al Parco del Pionta. Anche il Comune di Arezzo infatti è aderito al progetto Sport di Tutti, parchi ideato dalla Società dello Stato che opera per la promozione dello sport, sani stili di vita, wellness nei giardini e nei parchi e nelle aree urbane, promosso assieme a Danci. Abbiamo già concluso il progetto delle aree sportive non attrezzate proprio qua di fronte, adesso questa invece è l'area attrezzata che rimarrà a disposizione di tutti i cittadini, è un'area attrezzata per Calisterings ma anche per il Corpo Libero, è inclusiva perché è possibile anche per i diversamente abili fare attività in quest'area, ci abbiamo creduto molto in questo progetto per il suo carattere sportivo ovviamente, per il coinvolgimento dei giovani, anche quelli delle scuole che chiaramente potranno sfruttare questa vicinanza con la propria palestra e un po' per tutti, per rivivere lo sport nei parchi all'aperto gratuitamente per tutti e per ridare appunto anche al Parco del Pionta con il suo piccolo questa dignità, dignità e questa bella frequentazione che questa struttura porterà. Tra l'altro crediamo molto in questo tipo di struttura all'aperto, tant'è che questa è frutto appunto di un bando di sport e salute, appunto sport nei parchi, quindi è cofinanziata da sport e salute ma ne stiamo già acquistando altre per arricchire anche i parchi della periferia e delle frazioni di strutture come queste. L'area attrezzata è completamente digitalizzata, su ogni singolo attrezzo ciascuno potrà scaricare tutorial di allenamento attraverso un semplice QR code, potendo fare attività fisica nel verde e rigenerare corpo e mente. C'è un momento di appropriazione e riappropriazione del parco, dello spazio per i ragazzi tramite l'installazione di queste strutture ad uso sportivo, adiacenti alla palestra che è in utilizzo anche all'ITIS ma anche ad altre associazioni sportive del territorio. Credo sia un modo per valorizzare tutta questa zona che ha una forte vocazione sportiva e dare anche ai nostri studenti che potranno utilizzarli un modo per efficientare, implementare la loro attività delle scienze motorie.